Marco Ciao Grazie Grazie Stai 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 Marco Marco Stai 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 per me è il mio idol da quando ero piccolo ma quando ero piccolo? 25 anni quindi è un'imagine per me parlare con Marat Marat, cosa credo di questo? come rispettate il suo performance? è incredibile no, sì, è un match la prima volta che ti ho visto seriously, è impressionante perché ho pensato che ero in un secondo set aveva un momento per perdere e è rimasto forte l'Italiano Romano Empire il suo lavoro è stato bene e sono davvero felice penso che è in un modo bene spero che gli amici spero che gli amici ci sono un'imagine credo che hanno un stesso stile dell'Italiano l'Italiano è un'ostreo l'Italiano è un'oscienza l'Italiano è un po' di parte l'Italiano è un po' di parte quindi spero che gli amici spero che gli amici una buona fai guardare? sì, ora ho qualcuno guardare grazie molto grazie Grazie a tutti